Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono, si avete capito che sono Sanzi Sanso, e scusate se nel primo episodio non si sentiva niente ragazzi, scusatemi veramente tanto, se volete è colpa delle cuffie, scusate, no sono serio, scusate veramente tanto se non ho tolto le cuffie perché sinceramente io lo sapevo, solo che mi ero scordato, volevo vedere perché avevo usato un'altra app quando avevo usato le cuffie, vabbè non c'entra quello scusate veramente tanto, ma tantissimo, veramente non, allora, non lo farò mai più, scusatemi raga, scusatemi veramente tanto, non volevo, perché praticamente vi spiego io ero andato, cioè ero con le cuffie, sì, però non sapevo che non si sentiva niente, cioè non so se state capendo, allora non si sente niente dei video, cioè di quello che dico io sì, di quello che dico, non è video no, e quindi scusatemi raga veramente tanto, perché scusate è colpa mia, dovevo saperlo, lo sapevo già, solo che io stupido, cocciuto, e allora scusate raga, e scusate se ho usato pochi secondi del vostro tempo per vedere questo video, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, e mettete un commento, magari un discorsetto per perdonarmi, magari, per favore, scusate veramente tanto, e poi non l'ho neanche rivisto il video, quindi l'ho, sono andato sparato, scusatemi raga, ciao